Al Vincenzo Savini notaresco, blitz esterno del Chieti che conquista un successo importantissimo e prolunga la striscia di risultati utili consecutivi. Decisive le marcature di Verna e Mariani. Nel mezzo il pareggio è momentano di Dorato sul calcio di rigore. Con le immagini di Andrea Tiglio Di Blasio passiamo agli elesti della partita. Pronti via e dopo appena 7 minuti la gara si sblocca e Cristiano Verna a smarcarsi bene sulla tre quarti. Il controllo è preciso, il tiro ancora di più e complice una deviazione il pallone si sistema imparabilmente all'incrocio dei pali. Sciva battuto e chiedi subito avanti. La reazione del notaresco arriva soltanto al ventesimo quando Valenti innesca bene Pampano in profondità. Il classe 2002 perde inizialmente l'attimo e per poi riuscire ad andare ugualmente al tiro, un po' sbilanciato, palla alta. Stessa sorte, dall'altra parte per il solido Verna che raccoglie al limite dell'area ancora un pallone vagante ma calcia male. La partita si accende e Valenti tenta di mettersi in proprio con una bella serpentina. Il suo tiro closse è sporcato in calcio d'angolo da un difensore con forti a terra. Nel finale di frazione ecco l'episodio in grado di riaprire la partita. Tocco di Pietrantonio che intraccia la corsa di Pesce e causa il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Dorato che calcia centrale ma molto forte, infilando forti. Sulle ali dell'entusiasmo provano subito a ribaltarla gli uomini di Epifani. Il solito Valenti rientra sul mancino e tenta di sorprendere l'estrema avversario, attento nell'occasione. A rientro dagli spogliatoi spingono sull'acceleratore il rosso-blu. Valenti sguscia via e pesca sul secondo palo Pampano, il quale perde l'attimo e non riesce a battere a rete da ghiotta posizione. I neroverdi provano a farsi rivedere al decimo con Pietrantonio che da calcio franco tenta di sorprendere Schiba, vigile sulla linea di porta di Renault. Si ripete il numero uno locale sul tentativo di Ventola, neoentrato, che alza la testa e prova il tiro ad incrociare trovando la pronta risposta del portiere avversario. Epifani risponde con un doppio cambio, schierando scimia di rientrante esposito. Su una fulmina ripartenza sfiorano il controsorpasso i terramani con Massarotti, che ben servito da Valenti, sciupa tutto. Nel finale si esaltano ancora i portieri. Prima è bravo Schiba a distendersi sull'ennesimo tentativo di Ventola, poi è forte a vigilare bene sulla botta centrale di Valenti. Quando il pareggio sembrava ormai risultato definitivo, ecco l'acuto nero-verde in grado di decidere il match. Pietrantonio dà fermo d'essere i flessi del solito Schiba, sulla cui respinta è l'esto Mariani, che col mancino disegna una parabola spettacolare e davvero imprendibile. Nuovo sorpasso Chieti e pesantissimo 1-2. Esplodono gli encomiabili tifosi ospiti. Nei cinque minuti di recupero c'è soltanto il tempo per una conclusione da fuori di Blando. Forti non è sicurissimo, ma sulla sua respinta simula Gallo, che non riesce a pareggiare il match. Non succede più nulla, Chieti batti notaresco 1-2. Che partita al Vincenzo Savini?